Dal 3 al 5 febbraio torna l'appuntamento con la Firenze Pistoia, la prima gara ciclistica su strada organizzata in Italia e la seconda al mondo dopo la Paris-Girouen allestita in Francia. Un ritorno che prende la forma di una rievocazione per ricordare una competizione di notevole valore storico e sportivo e catturare l'attenzione degli appassionati di ciclismo d'epoca e dei curiosi in materia. Una tre giorni di eventi dunque giocata tra Pistoia e Firenze che avrà il suo clou domenica 5 febbraio proprio a Pistoia in piazza del Duomo alle 12 con l'arrivo di un gruppo di ciclisti a rievocare la prima edizione della gara. Dopo la positiva esperienza del febbraio 2020, data di ricorrenza dei 150 anni della competizione, domenica 5 febbraio la Firenze Pistoia tornerà su strada con 19 ciclisti che indossando abiti della fine del 1800 in sella a biciclette che sembrano uscite da polverosi album fotografici dell'epoca si cimenteranno sui 33 chilometri canonici che separano Firenze da Pistoia lungo la via Fiorentina e attraversando Poggio a Caiano. Si tratta di una corsa storica, sottolinea Alessandro Sabella, assessore al turismo, alle tradizioni e alla promozione sportiva del comune di Pistoia che ricorda un periodo importante per Pistoia in cui la città era particolarmente attrattiva per i viaggi con la ferrovia porrettana inaugurata nel 1864 ma anche per il commercio e lo sviluppo dell'artigianato locale.